Salve a tutti, benvenuti nel video relativo all'unità di apprendimento UDA seconda lezione, me l'avete richiesto in tanti, faccio a tanti i complimenti per aver superato il concorso STEM, ringrazio le decine di docenti che hanno lasciato un commento ringraziando questo canale, ormai abbiamo raggiunto oltre 100, ma io dico sempre 100, forse siamo arrivati a molto di più, di insegnanti che hanno superato il concorso e che hanno rilevato e hanno trovato questi video estremamente utili, in particolare questo video è molto importante per tutti quelli che si stanno preparando al TFA 6, per tutti quelli che si stanno preparando al concorso straordinario, ma sicuramente anche per quelli che stanno preparando la prova orale del concorso STEM, perché l'unità di apprendimento è una qualcosa di fondamentale, nel precedente video, basta che iscrivetevi, ma lo vedete anche nella cronologia.